Virgo, Ligo e Kangra hanno annunciato recentemente di aver rivelato onde gravitazionali di una fusione tra un buco nero e una stella di neutroni. Ci vediamo dopo la sigla per approfondire questa notizia. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in pillole. Recentemente le collaborazioni Ligo, Virgo e Kangra hanno annunciato un evento unico nel suo genere. Ovvero l'hanno rivelato onde gravitazionali di una fusione tra un buco nero e una stella di neutroni. Da quando erano state rivelate le onde gravitazionali per la prima volta non eravamo mai riusciti ad osservare una fusione, una collisione tra un buco nero e una stella di neutroni. Avevamo visto collidere buco nero e buco nero e stella di neutroni e stella di neutroni. Mai avevamo visto un evento cosiddetto misto. C'erano stati, prima di questi due eventi che sono poi stati annunciati, dei candidati per questo tipo di eventi. Ma l'errore su questi eventi era così grande da non poter annunciare una vera e propria scoperta, una vera e propria rivelazione di onde gravitazionali provocate da una fusione tra un buco nero e una stella di neutroni. Gli eventi rivelati sono addirittura due e risalgono a gennaio 2020, uno il 5 gennaio e uno più precisamente il 15 gennaio. Il primo evento che ha provocato le onde gravitazionali è la fusione, la collisione tra un buco nero che ha come massa circa 9 masse solari e una stella di neutroni che ha circa 1,9 masse solari. Il secondo segnale invece proviene da una collisione tra un buco nero che ha circa 6 masse solari contro una stella di neutroni che ha 1,5 masse solari. Gli eventi sono avvenuti a miliardi di anni da noi, quindi sono molto molto lontani, però molto vicini temporalmente, poiché sono avvenuti a soli 10 giorni di distanza. Quindi gli astrofisici hanno pensato che questi eventi non sono così rari come in realtà potevano sembrare. Anche se però non tutti gli eventi possono essere rivelati con gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione adesso. Una cosa interessante su questo tipo di eventi è perché un buco nero e una stella di neutroni si trovano così vicini nello spazio, così tanto da provocare una loro fusione. Ci sono tre ipotesi a riguardo. La prima ipotesi che fanno gli astrofisici è che siano l'evoluzione di due buchi neri che si sono fusi e di due stelle di neutroni che poi si sono fuse. Oppure potrebbero essere il risultato di un'interazione in un ambiente stellare molto molto denso, i cluster. Oppure ancora potrebbero essere il risultato di un'interazione nei pressi di un nucleo intergalattico attivo. Il segnale di onde gravitazionali che abbiamo rivelato ci fornisce molte informazioni sul sistema binario che si è andato a fondere. Ma anche il segnale che non è arrivato a noi ci fornisce un ulteriore indizio. Perché quando rivediamo onde gravitazionali ci aspetteremmo, poiché queste viaggiano alla stessa velocità della luce, di rivelare anche della radiazione elettromagnetica proveniente dalla fusione. Nei due eventi rivelati la radiazione elettromagnetica non è stata vista, non è stata rivelata. Che cosa ci dice la mancanza di radiazione elettromagnetica? Il buco nero era molto più grande della stella di neutroni e la luce della stella di neutroni non ha avuto il tempo di sfuggire al buco nero e praticamente il buco nero se l'è inghiottito in un solo boccone. Cosa succede invece se il buco nero e la stella di neutroni hanno masse paragonabili? Quindi hanno circa la stessa massa. Se le due masse sono paragonabili, sulla stella di neutroni agisce una forza di marea molto elevata che fa sì che la stella di neutroni si distrugga. E quindi una parte venga mangiata dal buco nero e un'altra parte riesca a sfuggire al buco nero quando si disintegra la stella di neutroni e quindi parte, arrivi a noi. Che cosa sono le forze di marea? Le forze di marea sono proprio quelle che noi vediamo quando abbiamo all'alta e la bassa marea. L'attrazione gravitazionale del Sole e della Luna fa cambiare forma la Terra. Poiché questa attrazione gravitazionale non è elevatissima come quella di un buco nero, la Terra cambia forma ma solo nella sua parte liquida. L'interazione con il Sole e la Luna non riesce a modificare la parte più solida della Terra. Per cui la Terra cambia forma ma solo perché il mare un po' si muove. Quando invece si è in presenza di un oggetto molto massivo come il buco nero, la forma della stella di neutroni passa da sferica a ellissoidale. A un certo punto queste forze di marea sono così forti da distruggere appunto la stella di neutroni quando le masse sono paragonabili. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video!